Salve, sono Michele Nicolai e in questo approfondimento continuiamo diciamo all'interno del modulo per quanto riguarda le disposizioni per l'attuazione di interventi e l'ammissibilità dei costi l'esame di quello che sono le regole finanziarie per quanto riguarda appunto i progetti finanziati. In particolare diciamo con questo modulo andremo ad approfondire quello che è il circuito finanziario quindi le modalità di pagamento da parte della provincia e di rendicontazione da parte vostra sulle attività realizzate con una finalità appunto di farvi conoscere quello che è il corretto circuito finanziario e quindi capire come poter ricevere i finanziamenti di cui avete diritto ed evitare invece di incontrare in possibili criticità. Allora, guardando quello che è il circuito finanziario di un'operazione, come probabilmente sapete, è possibile una volta che l'operazione è stata finanziata chiedere il pagamento di un anticipo. Nel poter chiedere il pagamento di un anticipo è necessario che ci siano una serie di condizioni. Innanzitutto è necessario che sia stata stipulata la convenzione. Se la convenzione, finché la convenzione non è perfezionata, l'anticipo non è possibile richiederlo. Devono essere avviate le attività, dandone formale comunicazione anche sul sistema. Dev'essere presente una garanzia fidelissoria a copertura dell'importo richiesto, se è previsto, diciamo, dalla tipologia di soggetto. Dev'essere presentata una richiesta di erogazione dell'anticipo. E, se non è già stata valorizzata, dev'essere presentata una dichiarazione trimestrale con la quale appunto viene richiesto l'anticipo. Quali sono le percentuali di anticipo che è possibile concedere? È l'avviso che stabilisce la percentuale che si applica, ma la regola è che è possibile avere un anticipo normalmente fino al 20%. Nel caso in cui si tratta di interventi che sono finanziati con aiuti di Stato, l'anticipo può arrivare fino al 40%, ma, ripeto, è un'opzione che deve prevedere l'avviso, e invece l'anticipo si riduce fino al 35%, arriva fino al 35%, per interventi più grossi, superiori a un milione di euro e con una durata superiore a 12 mesi. Quindi questo è il primo pagamento che si riceve. Secondo pagamento è quello relativo alle dichiarazioni trimestrali. Che cos'è una dichiarazione trimestrale? Una dichiarazione trimestrale sono una rendicontazione intermedie con cui il beneficiario chiede il rimborso al destinatario in relazione delle spese sostenute sulle voci di costo che sono state approvate. O viceversa, dove si opera ovviamente a costo standard, sarà la dichiarazione delle attività che sono state realizzate e che si traducono poi in spese. Qual è il massimale degli importi che è possibile dichiarare con le dichiarazioni trimestrali? Si può dichiarare fino all'80% dell'importo pubblico approvato, inclusi gli anticipi, negli interventi con costo standard, l'80% dell'importo pubblico al netto della componente ora lievo, quindi unicamente per la componente ora corso, mentre invece per gli interventi di formazione continua non sono ammesse le dichiarazioni trimestrali. Come si presenta la dichiarazione trimestrale? Sempre e comunque attraverso il sistema informativo Coemon, come sapete tutti i clus informativi ormai devono obbligatoriamente viaggiare attraverso il sistema informativo, e la possibilità di richiedere l'eneguazione dell'importo è possibile presentarla soltanto una volta che è stata validata la dichiarazione trimestrale da parte del controllo di primo livello. Quando devono essere presentate le dichiarazioni trimestrali? Le dichiarazioni trimestrali devono essere presentate per le spese sostenute in corrispondenza di ogni trimestre di calendario, quindi 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, e devono essere determinate dalla pertinenza della spesa, ossia dalla data di pagamento della spesa sostenuta. Quindi se ho una fattura del 30 marzo che viene pagata il 2 aprile, ovviamente l'andrò a inserire nella trimestrale del 2 aprile, perché quello è il periodo in cui quella spesa si è effettivamente sostenuta. Quando va inviata la trimestrale? Va inviata entro 25 giorni del mese successivo al trimestre di riferimento, quindi quella del 31 marzo dovrò presentarla entro il 25 aprile. Il beneficiario, attenzione, che deve sempre inviare la dichiarazione trimestrale o la rinuncia, quindi anche nel caso in cui non ho sostenuto spese, devo comunque inviarne una rinuncia. Quando è che posso rinunciare a presentare la dichiarazione trimestrale? Quando non voglio chiedere alcun rimborso, quando non ho sostenuto spese o non ho realizzato attività nel trimestre precedente, negli interventi a costi standard, il beneficiario può rinunciare soltanto se non ha realizzato attività nei trimestri precedenti, quindi non se non intende richiedere un rimborso. Deve comunque inviare la relativa rinuncia, quindi non lo può fare autonomamente. Quando, diciamo, altre due casistiche in cui non è obbligatorio presentare una dichiarazione trimestrale? Essenzialmente quando il primo trimestre è compreso tra 25 giorni antecedenti la scadenza del trimestre ed è minore o uguale della data di avvio o è minore o uguale a 25 giorni successivi alla scadenza del trimestre, quindi quando io sto iniziando un'attività al termine, diciamo, del trimestre. Stessa cosa, posso non presentare la dichiarazione relativa al trimestre di chiusura quando il trimestre cade nel novantesimo giorno precedente la scadenza di un trimestre, quando è minore o uguale alla data di avvio o quando è minore o uguale a 25 giorni successivi alla scadenza di un trimestre. Quindi in questi casi posso evitare di presentare la dichiarazione trimestrale. Nel caso di dichiarazione trimestrale a costi reali o a forfè, il beneficiario deve valorizzare i dati fisici relativi alle ore di attività progettuale realizzate nel trimestre di riferimento e imputate sul progetto e dovrà valorizzare le spese sostenute e pagate, quindi sia il dato fisico che il dato finanziario. Per ogni spesa è necessario inserire sul sistema gli estremi e l'importo del documento contabile, l'importo pagato e imputato nel trimestre di attività, la modalità e la data di pagamento, la registrazione in contabilità, devono essere validati i calendari fino al termine del trimestre e validati i timesheet online e associarli al trimestre, ovviamente perché calendari e timesheet mi avvalorano l'attività che ho dichiarato come dato fisico di ore di attività realizzate. Devo poi sempre allegare la documentazione giustificativa dell'attività e delle spese di pagamento, la dichiarazione trimestrale di essere sottoscritta dal legale rappresentante, devo presentare una dichiarazione sensile 445 che attesta la conformità e l'originarietà dei documenti caricati nel sistema informativo e la radicità dei dati che ho registrato nel sistema informativo, devo fornire una copia dell'ocumentazione cartacea relativa a registrazione di attività dei registri, dei file, eccetera, eccetera, devo presentare la dichiarazione sul regime IVA adottato, la pertinente documentazione attuativa prevista dalle disposizioni, quindi riferimento all'attività realizzate, e quanto eventualmente è previsto dall'avviso rispetto ai documenti che devono essere presenti. Nel caso invece di trimestrale di operazione finanziata con costi standard, è chiaro che in questo caso non ho costi da rendicontare, ma dovrò limitarmi a valorizzare i dati fisici relativi alle ore di attività progettuali realizzate nel trimestre di riferimento e imputabile al progetto, dovrò validare i calendari, anche qui in questo caso, fino al termine del trimestre e compilare e validare lo scarico delle presenze fino al termine del trimestre. Questi due riempimenti sono fondamentali perché il costo standard sarà calcolato sulla base di ore di attività realizzate e eventualmente anche ore di presenza, dove c'è la componente anche costo-ora allievo, e anche in questo caso bisogna presentare la dichiarazione trimestrale sottoscritta, la dichiarazione di conformità dei documenti caricati, la copia dei documenti cartacei sulle registrazioni e eventuali altri documenti di riferimento previsti dall'avviso. Per quanto riguarda invece la rendicontazione finale, vi ricordo che deve essere trasmessa obbligatoriamente entro 60 giorni dalla chiusura dell'intervento, è possibile chiedere una proroga, ma attenzione, che dopo 90 giorni dalla chiusura del progetto, se non è stato presentato il rendiconto, è prevista la revoca finanziamenti. Anche qui, come si trasmette, o come abbiamo imparato, si trasmette sempre attraverso il nostro sistema informativo. Quali informazioni dobbiamo fornire per il rendiconto, sono abbastanza simili a quelle che abbiamo visto precedentemente per la dichiarazione trimestrale, dati fisici e dati finanziari, in caso di operazioni finanziate a costi reali, tutti i dati che vanno a specificare gli estremi dei giustificativi di spesa, quindi gli estremi dell'importo del documento contabile, gli estremi dei pagamenti, le modalità di pagamento, la registrazione di contabilità, quei documenti che attestano l'effettiva realizzazione dell'attività, quindi calendario, registri e timesheet, e poi tutti i documenti che attestano, quindi che accompagnano il rendiconto, che sono il rendiconto, la dichiarazione sensibile 445, anche qui la dichiarazione lativa alla conformità della realizzazione, copia dell'agumentazione cartacea, la documentazione sul regime IV adottato, la documentazione relativa agli affidamenti a terzi, in questo caso deve essere trasmessa anche questa, quella relativa a tutta la documentazione ulteriormente prevista per le diverse casistiche disciplinate dalle dilattiva, la relazione finale e altri documenti che eventualmente sono previsti da parte dell'aglista. Anche in questo caso, laddove parliamo di rendicontazione presentata a costi standard, andranno presentati i dati fisici relativi all'operazione, gli elementi attraverso i quali sono controllati i dati fisici, quindi calendari, presenze e timesheet, e poi rendiconto, dichiarazione 445, dichiarazione sulla conformità della realizzazione, documentazione cartacea, dei registri di attività realizzate, la relazione finale, eventuali altri documenti che sono previsti dall'avviso di riferimento. Devono inoltre, nel caso di rendicontazione finale a costi standard, essere rendicontati eventuali ricavi che si sono generati collegati all'operazione che è stata finanziata, che dovranno poi essere sottratti all'importo pubblico erogabile, e poi per l'indicazione dei partecipanti dovrà essere sempre prodotta la documentazione relativa all'attività di individuazione dei partecipanti, per tutto il personale coinvolto nell'attività di selezione dovrà essere presentato il curriculum, l'estratto del libro unico di lavoro e l'ordine di servizio interno, contratto e tra l'incarico, timesheet, e per il personale in delega, quanto previsto appunto dal personale in delega, chiedo scusa, è andato... No, ci siamo correttamente. Nel caso di referenti e co-referenti dovrà essere presentata la documentazione, curriculum, l'estratto lavoro, lettera d'incarico, timesheet, attività realizzata, e anche qui la documentazione eventualmente prevista per il personale in delega. Attenzione che se la tipologia di costo standard prevede una percentuale minima di senior, questa dovrà essere, diciamo, rispettata anche per i referenti e i co-referenti. E, peraltro, personale, se l'avviso prevede una percentuale minima attuativa per determinate attività, l'obbligo di quantificare le ore dedicate alle singole attività, la possibilità di coinvolgere figure professionali con figure di incompatibilità, l'obbligo di esedizione della documentazione a prescindere dalle previsioni che sono sovraindicate e quindi attenersi sempre a quelle che sono le indicazioni previste dall'avviso, bisogna presentare anche qui tutta la documentazione che è necessaria per il personale che abbiamo visto nelle slide precedenti. Nel caso di persone giuridiche e personale in delega deve essere presentata la documentazione relativa all'affidamento a terzi prevista dalle disposizioni col contratto, il CV della persona che ha svolto l'attività e il timesheet online ove previsto. Nel caso di rendicontazione di attrezzature e materiale consegnati ai partecipanti è chiaro che operando a costo standard io non vedrò il costo e quindi voglio avere modo di, l'amministrazione vuole avere modo di verificare che l'attività effettivamente è stata realizzata o che il materiale è stato consegnato e quindi copia del registro di consegnare il materiale, copia dei testi originali prodotti del materiale didattico elaborato, dichiarazione sostitutiva sull'originalità dell'elaborato sottoscritto dal prestatore, dichiarazione sostitutiva della unicidità di imputazione dei costi e evidenza della messa a disposizione dell'attrezzatura prevista. Infine, per quanto riguarda l'attività di pubblicizzazione e promozione, tutto il materiale che è stato prodotto è una relazione sull'attività di pubblicizzazione e per quanto riguarda la verifica degli apprendimenti, tutta la documentazione che è prevista per dimostrare la verifica degli apprendimenti. Infine, il materiale previsto per la diffusione, quindi tutto il materiale che è stato utilizzato per la diffusione dell'intervento è tutta la documentazione attuativa che è prevista dalle rispositive che in qualche modo dà l'attività che è stata effettivamente realizzata, quindi verbali, report e quantità. Bene, con questo ci siamo soffermati su quelle che sono il circuito finanziario e le rendicontazioni e le modalità di rendicontazioni previste dal programma. Ricordo l'obbligatorietà di trasmettere sempre le relazioni trimestrali e qualora si ricorra in uno dei casi in cui si possa non trasmetterli va comunque fatta la dichiarazione di non trasmissione della dichiarazione e l'obbligo di trasmettere il rendiconto entro 60 giorni al massimo aumentabili a 90 pena la revoca del finanziamento. Grazie e per chi è interessato ci vediamo al prossimo approfondimento.